Il sindaco di Atri, Pier Giorgio Ferretti, continua il lavoro per scongiurare lo spostamento del commissariato di polizia dall'attuale locazione nella città ducale al comune costiero di Roseto degli Abruzzi. Un presidio che rappresenta, detta del sindaco, il baricentro di un comprensorio che va dalla montagna interna fino al mare. Inoltre, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale ha approvato il progetto preliminare del commissariato di pubblica sicurezza presso il sito Pala Alessandrini. Per quanto riguarda ormai il commissariato di Atri, credo che siamo in dirittura d'arrivo. Da Atri c'è una proposta estremamente concreta con un finanziamento, ci sono i soldi, i progettisti stanno già al lavoro, è stato già approvato il progetto preliminare e i progettisti stanno realizzando il progetto definitivo. C'è un finanziamento di 2 milioni e 700 mila euro per realizzare il nuovo commissariato. Sindaco, c'è qualcosa che lei vuole dire al sindaco di Roseto? Il sindaco di Roseto ha fatto prima una proposta di un condominio con 14 abitazioni che era la proposta definitiva. Oggi sappiamo essere diventata provvisoria, ci sarebbe un'ulteriore sede definitiva ma pare fondata solamente su un'idea. Che cosa gli vorrei dire? Che lui sta facendo tutte queste proposte non per le istituzioni di un nuovo commissariato ma per lo spostamento del commissariato di Polizia di Stato di Atri. E credo che questo non faccia parte del bon tonno istituzionale tra due territori vicini e tra due amministrazioni vicine. Non credo che così facendo il sindaco di Roseto stia facendo bella figura e non penso onestamente che stia facendo fare bella figura in generale alla città di Roseto. Tanto che in questa vicenda l'ha buttata praticamente nell'isolamento se si pensa che gli undici sindaci del comprensorio si sono schierati tutti apertamente con Atri e in occasione del comitato di ordine e sicurezza dove il territorio è rappresentato dalla provincia di Teramo e dal comune di Teramo anche essi hanno votato per Atri.